Ci ririscaldiamo in verità, avanti e indietro le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ci fermiamo, io mi metto di qui perché se no picchio sul mobile, avanti, 1, circonduzione delle braccia, avanti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, indietro, 8, 2, teniamo il bacino bloccato, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ora sblocchiamo il bacino, 1, 2, 3, 4, 5, torsione del busto, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio parte e indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop! Continuo col passo e chiudo, questa volta apro e chiudo le braccia, scaldiamo i pettorali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 1, 2, 3, 2, 1, stop! Mi fermo, lato, 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 flessione laterale del busto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6 5 4 3 2 e 1 allargo un pochettino di più le gambe e alterno affondo, affondo da una parte all'altra 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 ora mi fermo da una parte allungo il braccio avanti 8 2 3 4 5 6 6 6 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 cambio parte 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 8 7 6 6 5 4 3 2 e 1 stop 5 6 6 6 6 6 8 6 7 8 8 8 8 9 6 7 6 5 6 4 3 2 e 1 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 10 11 12 12 11 8 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 L'ultimo. E otto. Riprendiamo il nostro pesetto. Lavoriamo con gli addominali. Da in piedi però. Dunque facciamo uno squat portando il peso sul piede. Mi alzo e incrocio dalla parte opposta. Uno. Su. Due. Tre. Quattro. Cinque. Tre. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Cambiamo parte. Andiamo. Giù. O. Qui. Due. E. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Stop! Come va? Benissimo! Secondo giro! Passo e chiudo! Quattro, tre, due, e uno. Gambe larghe, a fondo, destra e sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mi fermo! Qui, quindi ora a fondo e allargo. Questa volta teniamo il braccio così, di modo che ci dia più spinta per incrociare. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Cambio parte! Va! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Prendiamo il pesetto e descriviamo degli otto, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Cambio giro, cambio giro, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. La tiziana ride! Cammino! Push up, torno! Si va! Ott! So! Do it! Tres! Quattro Cinque Sei Sette E otto Ok Prendiamo il tesetto E andiamo con gli squats E la torsione del busto Pronti On Qui Due Tre Quattro Cinque Sei Sette O Ancora O Sette Sette Cinque Quattro Tre Due E uno Cambio Gamba E andiamo Qui O Due Tre Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Sette Sei Sei Cinque Quattro Quattro Tre Due E uno Stop Rilassiamo un salto La schiena Allora Mi è stato detto che alcuni non riescono a mantenere questa posizione Chi non riesce Allarga le gambe Gira le punte dei piedi Sicuramente ce la farà Ok Piedi Piedi distanti Tra di loro Loro